Allora, attimo di terrore, come potete vedere, ovviamente siamo dei pazzi, perché veniamo in auto, in montagna, non c'era neve, mezz'ora fa, un'ora fa quando siamo passati, e invece guardate adesso, va bene, abbiamo le quattro stagioni, vedi, ah, grandissimo questa macchina, bella, oh mamma mia, oh maronna mia, va bene, e Massimo ha detto, dai, fai un video, sì, di sms, help me, sms, help me, va bene, dai, va bene, piano piano, andiamo, quindi, sapete, abituati a salvagenti e pinne, onestamente, non eravamo proprio preparati, oggi, a questo evento, eh sì, diciamo che io non vedo la neve, da un po' di anni, va bene, dai, mi sembra di essere tornato in Veneto, ok, Ehi, ai Dio, ti sorridono i monti, eh, va bene, dai, però, lascerai ragazzi, è meraviglioso, ecco il nostro gatto delle nevi, Massimo, va bene, Ciao ciao